vi ricordiamo sabato 25 aprile qui al cotton club afro raduno non stop dalle ore 16 alle ore 2 con jano tbc l'ebreo loda stefan egg relia lucati frank nastri e flo alle percussioni tutto questo sabato 25 aprile non stop dalle ore 16 alle ore 2 questa sera con noi per festeggiare il nostro quinto compleanno sono ospiti frank nastri e flo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 , , , a tutti. , 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 ,, , ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 Sabato 11 aprile, Electric Style con Diano e Stefan Eger. Sabato 25 aprile, Afro Rasuno non stop dalle ore 16 alle 2 con Diano, TBC, L'Ebreo, Loda, Luca T, Stefan Eger, Elia, Frank Nastri e Flo alle percussioni. Flight Mastery. Flight Mastery. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.